Ciao ragazzi, ciao ragazzi, bentornati Siamo pronti a fare una nuova cazzata Oggi ragazzi in mega sessione gigantesca di sonso stessuto Lui c'è, sono tutti Pablo Allora Vuoi muoverti, mogogna? Arrivo, dobbiamo un bicchiere d'acqua Vai 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 Non devi neanche chiedere Non devi neanche chiedere Non è centrata la webcam Bastiana Adesso è centrata Mi apri Sesso Con le palle Sesso con le palle Madonna che spaveno Allora Comunque secondo me il tuo audio del gioco lo puoi alzare anche un pochettino Va bene Un po' eh Non bisogna Però Guardiamo un po' audio Tu il FOV quanto c'erai? Eh anche il FOV secondo me è meglio che lo alzi Dicelo al massimo se non sbaglio Al massimo va bene Metto anche io al massimo dai Applica boom Audio aspetta che Devo volume principale Metto 50 dai Ma se io metto frecce quante me ne fa Allora Aspetta un attimo Cazzo ma Aspetto che entri per farti notare una cosa Sì sì aspetta aspetta Devo solo mettere Twitch Perché qua sennò io Mi sminchio un attimino e poi Allora Modcraft via Che episodio Che episodio Che episodio Che episodio Aiuto Aiuto Vuoto di memoria E' il quarto Non penso Io Non è una cosa che penso E' il quarto punto Quarto Bravo Bravo che mi dici ste cose Perché sono uno stronzo C'è un fibra di carbonio Dardo per balestra Adesso È il punto Parbata In Vale ok esplorazione mod no minecraft titano ok fatto si avvia eccoci live ragotti adesso si continua andiamo ma l'antena gioca dei sims grande vai tanto che carica quanto amo la musica del menu ragazzi cioè mi entra in testa raga devo attivare i led adesso c'è luce ehi la lucertola l'altro io ho visto c'è una ci sono le statistiche anche sui vestiti cioè quanto ti coprono quanto sono comodi e poi la prima che non so cosa sia si adesso vedo in che senso le statistiche dei vestiti a fianco quando ci fai sopra concursore ci sono delle statistiche a che servono a che servono a che servono a che servono c'è del tipo statistiche in che se c'è ho capito ho capito peru ciao cosa fare avete un obiettivo preciso allora dobbiamo dobbiamo continuare esplorare adesso che abbiamo il respiratore possiamo esplorare tutta una serie di caverne che prima non potevamo proseguire il respiratore è la vita oh ma tre ore per caricare il pollo caricare caricare com'era cosa facevo oggi a monopoli così il gesto che dici Ale è sconnected ma io non ti vedo eh lo so perchè stavo per dire una cosa bannabile ma cosa c'entra con quello che ho detto al mondo ho visto un gatto ho visto lui che faccio dai che faccio lui che faccio ma dove sei? siamo nel bunker eh si ho salvato qui allora non abbiamo notato una cosa qua sulla parete c'è vedi che c'è sta armatura arm, helmet, armatura, tuta, non so come è più una tuta che un'armatura 250 millilitri per 10 forse è da stampare aspetta eh no so cos'è è l'armatura del tessuto ti sento doppio devi disattivare l'audio quello della della shot vocale e come lo levo? ora? continuo a sentirti con quello come c... avevo fatto, ti ho mutato io ho fatto io parla aspetta ho capito fatto ho fatto fatto prova anche a smutarmi vabbè allora perché ci sono questi tessuti tecnici ok però può essere che si crafta con quello si però io non ho abbastanza prova a me hai del liquido da mettere sì ne ho sì ne ho 250 per 10 aki per 10 sì sì ma ne facciamo solo uno per vedere com'è ok 200 millilitri ho messo vai per cui per cui 10 di quel tessuto tecnico serve oh mio dio ma nooo tu che altro che cazzo serve non lo so beh perché non fa la live scusa grazie sono un pesce dove l'ha messo tessuto tecnico come l'inventare ecco prova a cliccare prova a vedere combina armatura tecnica ecco aspetta uno spago un nastro una scheda madre delle batterie ce l'hai c'è tutto mi faccio un pezzo aspetta per vediamo ok sì ha fatto armatura tecnica però mi sa ho paura che si consumi cioè io non la metto la tengo da parte ma non se ne può fare sì puoi aspetta sto prendendo tutta resina l'ho presa tanto è aspetta ne voglio fare un'altra io per me allora vediamo un'assimura ragazza però non le indosso non le indosso non le indosso no 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 guarda che cari ma come fa mamma mia ragazza è troppo bello vedere il caso vediamo queste cose io ok nuova ricetta infatti dove l'ha messa l'armatura eh sì l'armatura l'ha il tessuto tecnico fammi cercare non lo trovo valentone cecato ho una voglia di fare una cosa non scherzo no no dov'è l'armatura ca? in basso a destra è il tessuto tecnico sei nel mio inventario? lo so allora armatura tecnica questo questo poi questo è batteria ok eccolo qua che bello com'è che guarda che cavia ne posso fare un'altra? no bello la tengo va mi sa che proteggerà tantissimo questa armatura non so perchè mi sento questa cosa si va avanti si va via da questa da questo bunker già adesso che abbiamo visitato questo bunker dobbiamo andare nell'altra parte della caverna dove c'era il respiratore andiamo? andiamo ok il segnalatore l'ho messo occhio alla gente tranquillo oh merda cos'è? oh ok un attimo eh un attimo anche devo stoppare un attimo Dio santo mi metto a fk per due secondi e alla veloce arrivo che palle aspettiamo vale grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, sì, vai, 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 vai. Fai tu luce, io vedo un po' qua il coso. Sì, sì. Allora, ma comunque è ancora segnato il bunker, perché? L'ho segnato io, ho messo il segnalatore così ci ricordiamo dov'è. Ah, ok, bravo. Kelvin è dall'altra parte della mappa. Minchia. L'abbiamo completamente abbandonato. Povero Kelvin. Poverino. Aspetta. Ehi, io. Tomo. Bravo. Eccomi, eccomi. Io odio il fatto che la torcia o l'accennino puoi tenerli solo nella mano sinistra. Sì, è una roba, quella è una roba pallosissima. Non ha senso. È che siamo quasi arrivati. Non ho stamina. Devo imparare ad usare la stamina, perché così io non posso... Tanto le caverne dobbiamo riesplorarle un po' tutte, perché dobbiamo ricordarci quali sono quelle dove serviva il respiratore. Esatto. Questa forse sì. Eccola. Ma vaffanculo. Forse. Qua forse serviva. Dai, raga. Andiamo. Ah, anzi. No, mi sa che questa è proprio quella dove abbiamo trovato... No, non è questa. No, non è questa. Più avanti c'è cosa del respiratore. Dove? Non lo so. Uh. Mangia, mangia, è cotta. Ah, no, 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 no. Qua so dove siamo. C'è un bastardo. Sì, qua è dove abbiamo fatto esplodere... slaghi. E qua mi ricordo che serve il respiratore. Sì, qua è dove abbiamo fatto esplodere... E non mi ricordo il respiratore. Dove sei andato? No, qua è la croce. Mi ricordo. Aia. Malefico, guarda. Io li toccavo così. Ma muori, va? Morto, meno male. Pezzi di merda. Oh, buono. L'azione militare pure. Andiamo. Dov'era che si andava per il mostro? Di qua, di qua. Minchia, non mi ricordo più questa caverna qui. Non c'è nulla. È risponata la roba. Ma chi è che piange? Ma vaffanculo, va. Mi spavento sta roba. Eccoci. No, non c'è più il porco. Cazzo che sto suono? Non lo so, non mi piace. Tipo roba che si muove in acqua. No, no, la caverna con la fiaccola fa ancora più paura. È merda. No, perché? Perché? Attacca, 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 attacca. Ammazzalo. Tanto, sono deboli. Chi se ne frega, chi se ne frega. Perché dobbiamo andare a piano per... Della gente di merda così? Guarda, toh. Adesso siamo forti nel combattere. Non è che... Muori, merda. Visto? Shotati tutti. Vai qua. Madonna. Che palloso. Aspetta, chi? Crepa, merda. Vaffanculo. Ammazzato un cogliote. Non c'era nulla? No. E infatti c'erano medicina? No, 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 usciamo. Sono sicuro che qua non serve il respiratore. È una cavernata grossissima. E non serve, sono sicuro. Ok, allora andiamo via. Va bene, va bene. Ho sete. Che palle. Non hai la pentola con l'acqua pulita? Sì, no, voglio bere le bebite energetiche che mi danno anche l'affare, la forza e il coso. La pentola pulita non te la bevo poi. Ho il brodo di carne. Ma è vero, mi dà fame il brodo di carne, è giusto? Vorrei bere un po'? Vabbè, ma tu ti hai rifatto quello. Minchia, mi ha dato la forza. C'è un power-up diverso. Quindi rispetto a cosa? C'è una sorta di... Ma qua sopra? Ah no, ci siamo arrivate. No, ci siamo arrivati. Ho un power-up, non so che cacchio è, non so che cosa è. È arancione col simbolo della forza con la freccia all'insù, vicino al punto di dormire. Al coso delle cucine del letto, della luna. Non so che power-up è, però sta scadendo. Per cui... Bu! Dai, andiamo nell'altra caverna laggiù. Sai quale? C'è un altro davanti a noi. Dietro di noi, anzi, non davanti a noi. Di qua a chi? Davanti. O qua? Ehm... Andiamo qui alla sinistra. Va bene, dai. Ma vedi, non troviamo più nessuna caverna in cui serve respiratote. Madonna, sarebbe, ti giuro... Che odio! Per favore. Guarda che qua vicino c'è il kart. Prendiamo quello, va. Bravo. Esame. Ok. Aspetta che devo allargliarla molto. Ok. Uh, piano. Eh... Non fare come l'altra volta. Tundundu-bomb. Dio! Dai! Eh... Dai! Mi spiace che sono il tuo istruttore di guida, hai bocciato. Hai bocciato. Sei stato... Sei stato bocciato. Bro, non è possibile. Non c'è più spazio per passare. Diiii! Ma come il kart... Guida tu. Guida tu. Va bene. Adesso guidi tu. Mi metto dietro. Guarda, ti faccio vedere io come si guida. Corri che c'è gente. No, ma è inquietantissimo stare dietro. Sto andando giusto, Aki? Non so, guarda, ma... Aspetta, scendi, scendi, scendi. Ma che cazzo è? Madonna, vieni con... Shtorna! Ma sto pezzo di merda, ma che... Scappa? Dai, scappa. Devo scappare? Dai, che ti ha coltello? Madonna. Noi! Vai, guida tu, va. Aspetta. Che palle, ma che palle, che palle. Ma non sono indigeni, sono i mutanti. Porca mut... Ma perché ci sono i mutanti sopra? Sopra, dovete stare in caverna. Aia! Mi ammazza, mi ammazza, mi ammazza. Non ho più l'armatura. Manco io. Stacci morenna. Sono diventati più forti, o sbaglio? Ok, l'ho sceso. Guardate, ma mi fanno danno! Guida tu. Vabbè, guido io. Dove cazzo devo andare? Dai, guido io, ma. Non so dove devo andare. Dove vedo la mappa. Guarda la mappa. Lo sai. Los Angeles. Vai, grazie al cazzo. Ce l'avevo sminchiazzato. Guarda, guarda, guarda. Acqua! Come? Come? Eh? Minchia, ma c'è il lago di me. Basta, scendi la sua pelle del cazzo. Pronto. Ma baffa. Eh? Aspetta, guardiamo qua sotto. Magari c'è qualcosa. Ci sono barche varie. Veli. Che elettrilli. Ok. Porta. Oh, si scende. No, 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 ok. Non c'è niente. Perché non si vede un cazzo? Ma perché è buio? Porca trota. È buio come lo schifo. Qua. Che stia fa? Eh, metto la roccia. Guarda che stiamo andando nella direzione opposta, sono un coglione. Esatto, siamo proprio vermi. Ma ma è sotto nella caverna di prima? No. Uno? Sì. Capito. Ah, giusto, giusto, hai ragione. No, no, no. Dai, un altro piccio. Ignoralo, ignoralo. Ignora il piccio. Ignorat nè. Ignorat nè. Ignori, ignori. Aspetta che faccio una cosa. Fammi mangiare, va. Ho messo la riduzione del rumore sul disco così non senti le mie tastate. Bravo, meno male. Potrei dirlo anch'io. Potrei dirlo. Minchia dovevo dormire. Vabbè, no, in realtà... Eh, io sono un stupido. Anche io, però in realtà corriamo. Cazzo. Che vuol dire. Sass. Dai. Oh my god. Mi sento più distante. Mi sento solo sulle panche. Mi seguo. No. Mi seguo. Bello. Oh, sta diventando Jojo. Oh, iniziamo a bollare dopo. Vedere con le. Basta sti... Basta sti cani. Ho il massimo di bastoncini. Ma in tutto questo? Virginia? Eh, Virginia. Non si sta facendo un po' vedere. Non l'ho più vista, manco io. Come fai a salire un fiume controcorrente? Me lo spieghi. Ma che ne so. Infatti, infatti non riesce a salire. Guardate. Chi sei? Ahia. Eccomi qua. Ok, è qui. È qui, è qui, è qui, è qui. È qua? E respiriamoci? Ok, è questo. Bene. Andiamo, 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 andiamo. Ok, finalmente. Aiuto. Aiuto. Cosa c'è? Mi sono incliccato. No, ma vedi che non so giocare. Ma vedi. Vale. Che cazzo c'ho? C'ho problemi nella testa oggi. Ogni tanto parte un suono che fa. Andiamo. Tom, bom, 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 bom. Qua. Andiamo? Sei pronto? 3, 2, 1, vai. Immergiamoci. E si scende con il respira tennet. Con il respira tennet. Dove? Ok, qua. Oh mio Dio, che, 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 che crostofobia. Questa è la peggiore cosa del mondo. Tutte le fobie brutte. Eccoci. Oh, merda. Cacchio, c'è un pesce. Bravo. Uno è morto. Aia, aia, minchia. One shot, one shot, one shot. Aiutami. Come ho fatto? È su one shot. Aiuto, su one shot. C'è un altro coglione. Eh, no. Aspetta, aspetta, devo riprendere, devo riprendere. Mori. T'ho difeso. T'ho difeso, t'ho difeso. Ok, quando mi fare l'armatura? Ossa. Ossa. Ossa, altre ossa. No, non ci sono altre ossa. Non ci sono. Devo farmi l'armatura. Anch'io. Stacci morendo. Mamma mia, che pesce che sono io. C'è, non so giocare. Ah, due ne posso fare, davvero? Bene. Molto buene, molto buene. Armatura d'osso. Ok. Ti sei curato, Aki? Sì. Mangio un po'. Bravo. Boh, io sono a posto di cibo. Ho la... Ho quasi il... La forza otto. Non so tu. Ok. Non c'è proprio poco. Dai, bevo anche. Bombole. Muta da sub? Come? Minchia, dovevo dormire. C'ho la muta da sub, Aki, qua. Ah, muta da sub, è vero. Cosa cambia? Non so, magari non t'avamo meglio. Oh. Vai, la indosso io. Crepa. L'hai indossata? No, adesso la indosso. Dov'è? C'è un bastardo, c'è un bastardo, lo so. Ho sentito. Difendimi, eh. Devo indossarla. Dov'è? 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 Dov'è cazzo? Perché non riesco a trovare le cose io? No, Vale, non mi corre più il personaggio perché sono stanco. No, no, no. Metto un telo e dormiamo. Per forza. Aia. Bastardo, mi ammazza. Mi ammazza anche a me. Aiutami. Manco a me, corre. No, no, no. Dobbiamo dormire. Ma non muore più! Non possiamo dormire con questi coglioni in mezzo. Ma vuoi crepare? Vuoi crepare? Crepi? 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 Madonna. Non moriva più. Non mi lascia stare. C'ho sonno, Dio santo. E dormi, coglione. Eh, niente. Che? Niente, non abbiamo dormito un cazzo. No, non possiamo più dormire. Allora mi prendo una barretta energetica. No, ma veramente. Ma perché non... Possibile. Salvo, nel dubbio. Uia, buono. Bastardi. No, sono stato io per sbaglio. Chi mi ha attaccato? Sono stato io per sbaglio. Ho preso una barretta energetica anch'io. Perché così non posso vivere. Perché chi mi corre? Io corro. Oh, cazzo. Quasi scivola. Oh, uia. Addio. È morti. Morti, morti, morti. No, 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 no. Ma forse perché abbiamo la muta da sub? Ok. Ma no, cosa c'entra? Si può scendere ancora. Facciamoci l'armatura, ok. Fermiamoci un attimo. Sì, sì, infatti è così ce la facciamo. No, perché davvero c'è. Uh, casse. Qua ci stanno iniziando a fare il culo. Perché, vaga, io non posso morire. Non sono mai morto. Cioè. Per favore. Viettili. Preccia. Cosa c'è? Ci sono altre ossa? Bene, bene. Freccia di fibra di carbonio. Miga. Sei pronto? Ah, intanto qua sotto c'è qualcosa. Ah, siamo più veloci comunque con la muta da sub. Vabbè, era ovvio. Però, no, non c'è niente. Minchia la madonna con che veloci ti andiamo in giro. Dai, ci sei? Andiamo. Ma perché camminiamo più lenti con la muta da sub? Può essere che ci appesantisce, tipo. Sì, per forza. Aspetta che mi rimetto. Ah, eh sì. Camminiamo più lenti ma nuotiamo più veloce. Allora facciamo una cosa, leviamocela. Beh, ovvio. Sì, sì, sì. Come la desiquaggia? E equipaggiati qualcos'altro. Eh, ovvero? La giacca tattica. Ah. Il pigiama. Io vado in giro col pigiama. Perfetto. Complimenti. Guarda, il pigiama rosa. Valentino, pronto per la battaglia. Andiamo. Perfetto, fai ridere. Eh, andiamo. Basta. No, vabbè, spacchi tu. Sono un vero sp... No, no, no. Andiamo piano. Sono lui, c'è sentito. No, li ti, viva i moniblock. Vai dietro. Vieni, vieni. No, niente. Porco il cribio. Porco il cribio. Arriva. È una moto. Vai, vai, vai. Tira, 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 tira. Aspetta, la so ce n'è, no, la so ce n'è, no. Non a me. Perché mi si blocco? Ok, arriva. Mi blocchi. Nuori. Bravi, passate sul fuoco voi due. Coglioni. 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 Dietro, vale. Ne lo vedo. Mica che squadra che siamo... In due? Ai, 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 ai. Non dirievi toccare il culo a lui, capito, bastardo? Il culo. Oh. Pezzo di una leggenda. E facciamo una cosa. Posso dargli fuoco? Ho visto delle... Ho visto delle casse qua. Sì, posso bruciarli così. Panetto di C4. Guarda così. Granate. Guarda così ci facciamo le ossa. Ma sei un grande. Come ne hai bruciati? Con la fiaccola. Bravo. Un altro ce n'è. Fermo, fermo. Ah, bravo. Ammazzo. Muori, merda. Vai, ti butto sui tuoi cacciati. Minchia carbonizza. Guarda che brutti come si carbonizzano. Eccole qua. Non posso più portare ossa. Non le posso più portare. Per cui mi faccio tutta l'armatura completa. Sai quanto me le fotte? Minchia quanta roba c'ho io, eh. E adesso qua si ha ragione, ragotti. Mi manca una ossa. Deci an'infinite. Ah, il massimo è 15 da portare. Ok. Altre ossa. Altre ossa uguale a altre armature, ragazzi. Che bello. Guardate che ci stiamo rifacendo tutta l'armatura, bastani. Ma perché dovevano romperci i coglioni a noi, eh? Ah, che inneso. Questa è la loro fine. Ce l'ho quasi completa. Non completa completa, però. No, aspetta. Mi serve... Bene. Prendere le corde. Sei attento. Piano. Bene. Vodka. Madonna. Occhio, vedo un'ombra brutta. Ah no, è la tua. Anch'io. È la tua, è la tua. Mi hai fatto schiantati. Qua c'è qualcosa. No. No. Sì. No, 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 no. Non si può andare. Sì. Uh. Sì che si può andare. Quanti soldi? Non riesco. Ah, lo dici. Palettoni, minca. E si scende pure. Sei pronto? Eh, no, 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 no. Io andrei prima di là. Ci torniamo dopo qui. Andiamo. Va bene. Posso bere? Bevo un attimo. Così era veloce. Ah, vieni. Perfetto. Ah, ok, così. Ok, andiamo di qua. Dove vai? Qua, Aki. Non trovo tutto. Aki, FFU. Aki, FFU. FIFU. Per ora, questa è la caverna più grossa che abbiamo mai esplorato. Sì, finora sì, finora sì. Madonna che grande. Là giù c'è una luce. È un altro di quei computer che si accende di rosso. Occhio, occhio. Non ce ne è nessuno. Sì, 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 c'è, c'è, c'è laggiù. È uno di quei cose. È il mutante. Che cazzo è quella merda? Che cosa sono quei cosi? Eh, merda, arriva al tizio, arriva al tizio. Ho una paura, anche una paura. Facciamoci questo, facciamoci questo con calma. Aspetta. No, anche una paura fattuta. Arriva. Non mi piace. Dai, vai, lo scopo è me. Aia. Vai, vai, fortissimo. Aia. Arriva quel coso, arriva quel coso. Oh, 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 io sono una merda, sono una merda. Che brutto. Cos'è, sto schifo. Molotoviz. Molotoviz. Molotov, molotov. Oh, mio Dio, mio Dio. Che cazzo. Anch'io. No, 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 lo devo muovere. Fa malissimo, fa malissimo. Molotovizzare, il Molotov. Molotov. E se n'è andato? No, valo, lo, valo. Lo, valo, lo, valo. Non mi piace nella Molotov. Sì, due ore, personaggio inutile. Molto in radio. Cazzo di merda, muori. Vi attacca. Che brutto. Aia. Ma questo è il peggio di... Del boss finale di The Forest. Ma quanto è grosso, poi. E no, è fortissimo. Aia, aia. Aia, sto morendo. Muoio, no, muoio, muoio. È troppo forte, è troppo forte. Musa l'arco, musa l'arco. O le lance, non lo so. Muori, pezzetto. Puoi usare le lance, muoio. Puoi usare le lance. A distanza. Guarda, quanti pregi gli sto tirando. È inutile, è inutile. Non perde vita, non perde vita. È vivo. E sono morto. Minchia, ma salta come un matto. Crepi. Crepi. Oh. È morto. È un casin... È un mega tank. Non riesco... Perché non me lo fa? Non me l'ha fatto smembrare. Perché mi ha preso le frecce di merda. E me le dai, posso... Cosa t'ha dato? Cosa t'ha dato? Se non usi l'arco, ridammele, se no niente. Cosa t'ha dato? Non mi ha dato niente, mi ha dato... Ma cammina sulle dita! Guarda, c'ho tutte ste dita grosse che ci cam... Madonna, che schifo. Toh, ti do le frecce. Grazie. Che merda. Ma che fibra di carbonio. Guarda quante c'è no in fibra di carbonio. Oh! Ma posso? Ce n'è un'altra, eh? Io muoio. Ma posso mettere la torcia sull'arco? Non c'ho più delle... No, non posso. ...cazzo di armatura. Non ce l'ho più. Ok, allora... Io ne ho visto un altro di quei cosi. Anch'io. Ho finito. Aspetta, armatura, armatura. Dai, perché non me la fai... Qua ci sono ancora freddi su questo tempo. Non me lo vuole fare smembrare. Che due palle. E' laggiù? No, laggiù. Ok, laggiù c'è uno di quelli con la bocca. Ma io ho visto un altro di sti cosi grossi. Guarda sul soffitto. Sono sul soffitto. Eccolo. Eccolo lì. E' laggiù. Aspetta, ma tanto siamo pieni di granate, no? Ma io dico... Ma perché non le usiamo? Ok. Vieni, vieni, stronzo. Vieni. Vieni qui. Suga. Ma una non è bastata. Non muore. Due non sono bastate. Merda. Oh, sì. E' morto. Guardate che brutto, ragazzi. Come godo. Ma come godo. Le granate sono le cose più buone dell'unica. Eh, ma eravamo sempre pieni. Guarda, guarda che brutto. Due di armature ci ha dato. Guarda che schifo. Che vomito. Io boh. Mai visto una roba del genere. Ma questa è una roba assurda. Io non l'ho mai vista in dei... Sti... Tu... Guarda che io sto scioccato. La stessa roba mi... Mi fanno rimanere... Oh, così. Allora, qua c'è un compito. Accessorio per torcia. Ah, è un punto sulla mappa. Nuovo luogo. Bunker di manutenzione A. Ok, un altro bunker. Buono, buono, buono. Raggiungi qualcosa, ma secondo me possiamo semplicemente evitare. C'è un altro qui. Andiamo via, andiamo via. Andiamo più avanti, c'è più roba avanti. Io non penso che... Va bene, va bene. Sì, non penso che... Minchia, sono tre. Cazzo. Corri, corri. Sonata. Sai il modo, sai il nostro modo. Colpi. Attenzione. Via, 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 via. Lontana, andiamoci. Arriva, arriva. Scappiamo qui, scappiamo qui. Cosa c'è qui, cosa c'è? Vai, vai, vai. Via, via, via. Andiamoci. Ok. Mamma mia, che velocità. Poi ricordati quel punto lì che dobbiamo andare a visitare. Sì, sì. Siamo stati super bravi, eh. Minchia. Perché i soldi a caso, così? Non so, c'ho... Sono ricco io. Ah, qua si va sotto. Ok. Non è che magari qua si collega al punto? Non lo so. Potrebbe darsi. Magari una shortcut, uno scorciatoio. Non lo so. Non penso proprio che sia uno scorciatoio. Occhio, occhio, occhio. Non c'erano i mostri per quello. Dai, tu occupati di quello. Guardate. Merda, c'è anche il tizio. Eh, prendo una moto. Cazzo. Vai. Merda. Occhio che l'hai da tiro. Agia. Togliti che gli tiro la moto. Aiuto. Merda, c'è un altro tizio. Merda. Bravo. Pezzi di merda. Morto, l'altro tizio è morto. C'è il coglione, l'ultimo. Vai, che muore. Mori. Ok. Morto. Vai, buono, rai, l'abbiamo ucciso di brutto. Quanto godo. Benissimo. Armatura. Aspetta un attimino, mettitela subito l'armatura perché ti serve. Eh, io ce l'ho al massimo. Io no. A me me l'hanno distrutta. Non c'è più corde. Agia. Cura. Agia. Ancora vivo. Bastaldo. Corde, non ce ne stanno i cordi. Aspetta, aspetta. Vai, vai. Aspetta, prima vogliamo tutta questa zona. Mi sa che c'è rifornimento in queste cose, non so perché. Oddio, luce, luce. Luce. Che cazzo è? Aspetta, bambini. Ok, bambini. Che cazzo è? Ah, gli fanno malissimo. Occhio. No, c'è un doppio cosa, c'è un doppio cosa. Doppia testa. Doppia testa? I gemelli. I gemelli. Ah, merda. Ma che cazzo c'è laggiù? Boh, io non capisco. Allora, andiamo. Vieni, 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 vieni. Oh. La pala. Ma intanto la pala. Ma che cazzo è sta roba? Ma cos'è sta roba? Raga. Ok. Stiamo scherzando? Ah, bastardi, non si può andare, c'è il muro invisibile. Come c'è? Eh, ma furbi, è loro. Madonna. Furbi, grandi. Ma so, però questo non è un laboratorio. È proprio... Ma che laboratorio? Sembra una struttura aliena proprio. Guarda che strana. Se questo lo chiami laboratorio. Oh, ciao, ciao, andiamoci. Andiamo in quel cunicolo. Esatto. Non tutto indietro, hai c'è quella parte di piccola. La trama si infittisce. Eccolo qui. Il culo. Cosa c'è qua? Eh, secondo me usciremo da un altro punto. Occhio. Eccoli. Secondo me no, perché sento voci. Ecco. Porco giù, da che paura. Quanti sono? Madonna, mi fanno una paura assurda, ti giuro. Stanno diventando troppi, eh? Sì. Muori tu. Aia. Crefato un altro. Due ne mancano. Dammi l'arco, dammi l'arco. Minchia, io li ganko tutti. Tutti li ganko. Tutti quanti. Mi sono ammazzato tutti io. Mamma mia. Morto, morto. Ah, io sono stronzo. No, ma sai perché? Ne avevo 400. Un altro morto? BAM, ti ho preso in testa. Devi morire, devi morire, devi morire. Moriii? Ma come fai? Boh. Come fai ad essere io su Cranker? Ma provo quasi pena, cioè prendono talmente tante mazzate prima di morire. Ma davvero? Cioè, boh, non capino. Non c'è niente. Andiamo avanti. Qua. Ossa. Oramai pieno sono. Non posso farmi neanche l'armatura. Perché non c'ho le corde. E quindi? Non c'è niente. Ehm... Non capisco. Per l'utilità di quest'area aperta? Combattimento. Va. Va bene. Magari per farsi l'armatura. Non lo so. Ammazzando questi ti fai l'armatura e... Vabbè. Torniamo indietro. Non ho capino. Non ho capino. Ahia che maraschina. Aspetta che mi metto la montana subito qua. Anch'io. Vedi che tu sei brava a ricordarmi, Kuli. Sas, come sta andando? Sta andando molto bene. Abbiamo scoperto un po'... Trovato la pala. A posto super strano. Che non abbiamo idea di cosa sia. Abbiamo trovato la pala che serve per raggiungere posti, scavare in certi posti dove altrimenti non potresti. Adesso andiamo a vedere il cunicolo, quello là, segreto dell'acqua. Per il respiratore. Vediamo un po' che cacchio c'è lì. Sta di fatto che è ultra inquietante. C'è un tizio quello incastrato in sta melma. Che madò. Penso se finiamo noi così. Intrappolati così. Schifo. No perché mi immagino ste scene? Che merda. Sono stronzo. Era di qua. Ok mi ricordo. Qua 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 giù si giù si giù si. Sì sì era ancora un po' più avanti. Minchia sto... Si sta minando di brutto. Che inquietanti. Che inquietanti. Era più aperto. Mutanti più andiamo avanti più sono terrificanti eh. Oppure lì. Io non so che cacchio diventano poi. Se si continua così. Davvero qua si... C'è. Ok. Uh due vie. Come due vie? Sì c'è sinistra e destra. Andiamo prima a sinistra. Ma davvero? Ti giuro. Lo vedo. Cosa fareste se vi trovaste in un posto così nella vita reale? Quello che stiamo facendo. Sopravviviamo. Bravo. Nelle nostre competenze perché i personaggi in questione sono dei Chuck Norris. Noi non siamo così. Che cazzo? Dove siamo? Ma cosa? Non lo so. Ah. Ah. Allora l'altra via si va. Allora si va dall'altra via. Ok. Ha senso. Mi è chiaro adesso. Non capivo infatti. Non capino. Non capino. No. Eccoci qua. Non è di qua. Si spende. No. Qua si va dall'altra parte. Si. Non si spende. Ah ecco qua 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 qua. Qua c'è una. Fermo. Ma io non sto capendo. Ah chi? Dove cazzo? Non ho trovato un'altra io da parte. L'ho trovata ancora un'altra? Sì. Vai vai. Qua. Su. Ecco. Ah è vero adesso. Intanto ci sono dei soldi nell'acqua. Sì sì sì. Adesso. E qua è un punto nuovissimo. Si sale. A meno che non è un'altra scorciatoia. Non penso. Secondo me l'uscita. Cosa Bea? Cosa punto interrogativo. Ah no. Ok siamo tornati dove eravamo prima. Ok. Ma che cazzo? Bah. E siamo dove eravamo prima. Vabbè non importa. Andiamo avanti. Guarda il soffitto. Guarda che bella illusione. A volte che ti fa sembra che ci soffitto. No non è un'acqua. Eh eh eh. Sono i riflessi dell'acqua. Bellissimo. Munizioni intanto. Te l'hai scordata. No. Tu te l'hai scordata da prima. Sono un piccio. Famo da sto schifo di posto. Merda. Eh c'è uno di quei cose. Corri. Eh minchia corri un cazzo. Sto per morire. Di stamina. Eh eh. Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Cosa? Da dove merda esce fuori sto scemo? Aiuto. Aiuto. Non corre il coglione. Vale. Dica. Io mi son cagato addosso. Ma che cazzo? Ho girato l'angolo. Mi è esplosa la parete. E è uscito fuori sto scemo. Ma. Fallo esplodere. Dai non mi. Non mi spasci. Fallo esplodere tu. Ma non cazzo. Dai vai. Vai. Ma scusa ma in che senso? Così. Così. Ok. Ma non cazzo. Ma ti è spuntato così? Sì ti giuro. Ho girato l'angolo. Mi è esplosa la parete. Mi sono cazzo. Ma come è esplosa la parete? Ti giuro. Ha sfondato la. La roccia. Ma che cazzo. Bello. Bello. Sono sotto i foresti ragazzi. Vai ammazza. 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 Vai che oramai siamo forti. Vai. Vai. Tutti i bambini morite. Inutili. Inutili. Fate schifo. Morti. Easy. Ho fame. Mangio. Aspetta che mangia. Mangia. Operai. Sempre operai. E bevo pure ti dico bevo pure tutto. Teschi. Però siamo salendo. Bevo l'acqua bollita. Fai bere la carne con l'acqua bollita che mi dà fame. Niente che avevo invitato il messaggio prima senza mettere il punto interrogativo. Non importa. Andiamo. Ah corro più veloce con questo. Col bonus. Bonus culinario attivato. Carne bollita si chiama. E' un bonus che mi fa colore. Basta bambini. Madonna basta. Basta. Io odio questi bambini di merda. Inutili. Oh buono. Morti. Bimbi mutanti. Bimbi piccio. Bimbi piccio. Minchia qua. Ma non si risale più. Non si risale più. Ma non si risale più no. Vabbè che dobbiamo fare. Cazzo. E io ho paura però. Perché se non si risale vuol dire solo una cosa. Siamo nella merda. No. Oh si esce invece. Si esce. Minchia. Divento ateo. Ok. Quindi era scriptato. Il tizio di prima ci ha sbloccato una shortcut per uscire. E' giorno. E' pure il giorno. E' pure il giorno. La pala. Possiamo andare a trovare più roba. Ci abbiamo la pala. Ci abbiamo la pala. La pala. Oddio è autunno. Guarda. Le foglie. E' ancora autunno. Anche prima era autunno. Allora arriverà l'inverno. Un po'. Cos'è? C'è una M. Ah credo sia l'altro bunker sai. Sì 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 sì. Credo sia quello. Dov'è? L'hai mai visto? Non la vedi? È nella mappa. Dezoom. Non la vedi? Dezoomata al massimo. Eccola qui. Andiamo. Dai andiamo lì. Subito sì sì. No aspetta. Dobbiamo riposare assolutamente. Eh più forza. Questa facciamo un riporio. A meno che non è dentro la caverna. Non avrebbe. Sì sì sì. Dentro la caverna l'abbiamo fatto noi. Aspetta. Fai lo tu il rifugio dai. Che tu sei addetto ai rifugi. Dobbiamo dormire assolutamente. Diventa la notte lo sai? Non mi interessa. Eh ma purtroppo dobbiamo dormire. Ci vediamo. Non possiamo. Perché? Dai che palle. Deve essere notte. Che palle? M bollita. M bollita. Bella. Minchia raga c'ho sonno. Che figo. Ma secondo te si può morire di sonno in sto gioco? Spero di no. Beh se fosse davvero realistico sì. Eh mi sa che puoi morire. Non sottovalutare i cazzi. Perché se no non lampeggerebbe. Se no se no se no se no. Minchia sale la M. No non è che sale. Che siamo sul bordo della montagna. Dizio. Madonna come scivoli. Vorrei capire perché la M. Bravo. Come ma perché l'altro bunker è di vero. L'altro bunker non mi ricordo che segno aveva. Forse aveva già la tv. C'è qualcuno col nome che inizia con M? Non mi sembra. Perché c'è il cinesino lì all'inizio. Poi ci sono i Patton però boh. Non lo so. Vi origina neanche. Non c'entra un cazzo. O sarà un nuovo personaggio a M? Kelvin no. Magari non è riferito al personaggio. Magari è riferito non so. Alla locazione. La locazione. La locazione. La locaziazza. Ma è cazzata. Alla giù c'è un villaggio con gente incazzata che non disturberevo. No lascia stare. Evitiamo. Stipicio. Non voglio proprio averci pezzato. Poi più ne uccidiamo più arrivano. Bravo. Non conviene. Adesso sarà un bel casino lo sai. Perché adesso ce ne saranno un bordello in giro. Sì. Abbiamo ammazzati 400.000. Mamma. E ancora sono vivi. Ancora sono qui. Vivi. Si scende. Si scende. Si scende. Oh. Eh però ti butti. Paglione. Dov'è? Ok qua davanti vieni. Mi curo. Tanto ho medicina infinita io. Anche tu ne hai un bordello di medicina. Eh praticamente. Ok ci siamo. Sono dei cart vari. Lì c'è una A. Una A. Fermo. 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 Andiamo. C'è una ruspa. Come una ruspa. Guarda la giulla. Vedi che c'è una ruspa. Sì. C'è una A che. Vieni qua. Scusami. La M. La M non so per cosa sta. Chi è sto qua? Ah ma là sei tu. Ah non capivo. C'è un coglione. Cos'è sta roba? Andiamo a vedere la ruspa. No peraltro qua ci sono delle videocamere. Batterie. Dove si può scavare? Vai. Scava. Fai tu fai tu. Vuoi che... No scava anche io cos'è più realistico. Che figo. Vai che figo. Oh. C'è qualcosa. Quindi è un bunker sotterraneo. Sì perché c'è una porta. Hai proprio indovinato. Guarda. Sì sì sì. No che fighe ste cose. Oh ma che figata ste cose. Bellissimo. Te l'aspettavi sta roba? Sì. Ecco. Sì. Oh. Si può già aprire. Vai. Entra. Ok. Ah così? Piano Aki. Così vai. Aspetta. Ma intensa. Mantenimento A. Mantenimento A? Sì. Non si apre. No non si apre. No no. Tira forte. Vedi. No si è aperto. Ok aspetta però. Aspetta aspetta aspetta. Guardiamo la ruspa prima. Aspetta devo salire. Sto scendendo da solo. Non mi faccio salire. Cozzola c'è un barile. Aspettami aspetta. Mi sto scendendo da solo. Aspettami. Big Dog. Ma che marca è? Non la possiamo usare. Peccato. Perché c'è un... Vabbè è inutile che mi faccio domande. È ovvio il pontivo per cui c'è una ruspa qua. Hanno scavato per sbuncare. Buo entriamoci. Una ruspa. Mamma mia. Bella. Ma tu hai visto come controlla? Ma in che senso è una lama a destra? Aspetta aspetta. Ok. Cosa non l'hanno a destra? Non so. Ha scritto Luca. Oh qua qua. A chi? Cazzo. Il circuito stampato? Sì è quello. La cosa... Ma è in funzione. La cosa è alquanto inquietante. Questo è proprio un classico corridoio da gioco horror. Ma è in funzione anche sto bunker. Lo noti? Vuole che c'è qualcosa? Ma è lo stesso discorso dell'altro gioco. Cioè nel senso... Si vede che è successo un casino da poco. Perché non è un posto... Qua c'è civiltà. Musica. Musica. No che ho paura che ci sia qualcuno davvero. Ma giù ci sono... Fermo piano piano piano. Ma c'è un appartamento. Ma che... C'è un appartamento. Ah che è in casa mia. Ah certo. Cibo. Dov'è la musica che vorrei spegnerla? Carne cruda. Non si può. Cibo. Bene. Cereali che mangio subito perché mi danno energia. Oh oh oh. Computer. Bunker gastronomico. Bunker gastronomico. E poi cos'è sarà? Binario per pistola. Binario per pistola. Mirino laser nell'inventario. Aspetta. Aspetta. Traduco. Allora. Team. Allora. This afternoon. Che dovrebbe essere questa mattina. It was discovered that a painting from Mr. Pafton. E' stato scoperto che un dipinto di Mr. Pafton. Un dipinto della collezione di Mr. Pafton è stato perso. Se qualcuno ha qualche informazione per favore lo dica a me direttamente. Hank. Hank. Ok. Non mi piace questa cosa che ha detto. Bello che abbiamo il mirino laser per la pistola. Chiave magnetica. Hai trovato la keycard? Carl Planter. Keycard. Sì è la chiave magnetica. Lei? Non ci posso credere. Possiamo andare nell'altro bunker. Arrivo aspetta. Ah gli ho messo anche il mirino. Alla pistola. Come hai fatto? Cos'è? Sì è un mirino. Ma cosa l'hai messo? Alla pistola. Io ho messo il binario. Eh il binario serve per mettercelo appunto. Ho messo anche il mirino. Ok. Qua c'ha... Ecco la keycard. Ah no non è una keycard normale. Cioè è anche una... Ho messo pure... Aspetta. L'accessorio. Carl Planter. Ok. Minchia c'ho la pistola più figa del mondo. Adesso te la faccio vedere. Ma ce l'ho anch'io. Stupido. Guarda a chi. Ma ce l'ho anch'io. Ma che bella. O con questa adesso si può fare tutto. Ok andiamo. Aspetta. Oh. Questo è un quadro. Che? Ma che... Ma che è? Allora. Allora in mano c'ha tipo un... Vabbè c'ha la spada. Una specie di molotov. E poi c'ha... Non so. Questa non è una tuta. È più un'armatura. Sembra un indigeno gigantesco fortissimo. Sì sembra tipo una specie di boss finale indigeno. Tutto ciò... Ma il monoruota lo avete abbandonato. Eh sì. Allora. Libro. Libro. Sem Sound Corporation Line. Non so cosa sia. No ma questi sono tutti indizi che io non capisco. There is a line you do not cross. You do not cross. C'è una linea che non dovresti oltrepassare. Oh merda. No stiamo andando a cercare a trovare cose... Di qualcosa di molto grosso. Guardate che ho trovato un completo. Oh. Cos'è sta roba? Che ho trovato? Ah. RX. Scarabocchi. Non lo so. Beh. Ma io il completo me lo metto. A parte che qua c'è un tizio morto. Non ci abbiamo fatto caso. Aspetta me lo metto perché voglio essere legante. Ecco. Guarda che invece entra. Ah che bello che sono. Vorrei vedermi. Non posso vedermi ma lo vedrò tramite il tuo video. Oh. Casa nostra. Che è? Come stai? Ti piace il mio appartamento? È un po' disordinato perché ho bevuto. Però per il resto è bello. Prima avanti. Ok bambini. Bella madonna. Madonna mi sono preso un colpo. Ma chi l'aveva? Chi lì? Madonna che paura. Mi sono preso un colpo. Batteria. Cuido. Cuido. Lampadine. Uh. Ascia antincendio. Cosa? Finalmente un'ascia migliore di quella accetta piccolissima. Che per carità bella. Dove l'hai trovata? Era qua. Ah. Adesso sì. Questa sì. E questa è più forte del coltello eh. Del macete. Non so. Ma è minchia. No non è più forte. Più. Più. Più difensiva. Si fa più danno. Dove me l'ha messa? Ah qua. Bello bello. Eh. Ok. Ma tutti questi posti sono molto strani comunque. O se le macete provo ad usare l'ascia. Dai. Andiamo. Vai. Mi piace la forza 8. Anche io a 9. Madonna. Quasi quasi 10. Aspetta ma non abbiamo provato. Ma si può dormire? E così magari. Eh bravo. Così ci salviamo anche. Ci leviamo dalle palle. Sì possiamo dormire. Che bello. Vai dormiamo. Che bello. Dormiamo a casa. Ok una. Mamma mia quanto mi. Dormiamo ancora. No non si può. Eh non si può. Aspetta. Dai. Salviamo. Minchia ho tutta la carne variata. Posso mangiarla? Carne cruda? Carne variata. No non mi fa male. No. L'ho buttato. Lascia. Anche il pesce variato. Allora. Facciamo un fallo qua dentro. Ti prego. Si può fare? Guarda quante carni c'hai. C'avevi. Eh lo so. Però è andata tutta a male. Pesce variato. No. Che schifo. Coste che ha variata. Tutta variata. Tutta in cima variata. Cane. Allora. Mi finisco un attimo la mia porzione. No l'ho finita. Cosa? Ho finito la mia porzione di... Minchia non ho più roba da bere. Hai finito la pentola? Eh anche io l'ho finita. Vabbè adesso la riempiamo. Sì ci serve. Dai usciamo. Eh ma volevo fare la cosa con la carne. Perché quella mi dà tanta roba. Però scusami. Allora. Allora. Beh bevo la bibita. Allora però. Dimmi dimmi. Non lo so. Il fatto che troviamo un foglio. Che parla di un dipinto di Pafton che è stato perso. E poi qui a fianco c'è un dipinto. C'è qualcosa. È un po' strano. Non lo so. Ricordiamocelo solo. Ricordiamoci sto tizio con questa specie di armatura strana. Ok? Mamma mia. Quante cose. Quante cose che combacianoci. Mamma mia. Andiamo andiamo. Guarda quanta carne mi ha buttato. Dai quel cibo non lo volevo buttare io però. Era pieno. Adesso non abbiamo più cibo infinito. Ciao tizio. Vabbè ci sono le scatole di cazzi. Dai andiamo. Vai. Sali aca. Acafe va. Acafe va. Leggendario. Ok. Allora. Dove ci ha messo la posizione dell'altro bunker? Qua vicino. Tutti vicini sti bunker. L'hai visto? Cioè vedi che finora si forma un triangolo praticamente. Minchia è vero. L'altro bunker. Cos'era bunker culinario? Gastronomico per cui ci sarà. No gastronomico per cui ci sarà cibo se gastronomia. Quindi. Ok però. Quindi hanno tutti. L'hanno tutti. Ogni bunker c'è una funzione. C'è una mansione diversa. Cioè. Esatto. Questo era albergo. Quindi alloggio. Mentre. Questo che sarà gastronomico. Poi c'è l'altro che. L'altro è un po' strano. Perché poi c'è da usare la keycard. Dobbiamo entrarci. Vedere cos'è. Quello là è l'unico. È l'unico. Finora senza una mansione. Perché come hai visto. C'è solo una keycard. Che strana. Che non so se. Per cui abbiamo molte vie da fare. A parte le varie caverne. Abbiamo anche da vedere. Cioè. Si vede che questi bunker. Sai cos'è? Si vede che questi bunker. Li hanno costruiti. Per la gente che lavorava su quest'isola. Vedi tutti gli operai che ci sono morti in giro. Poi non si sa bene a cosa stessero lavorando. Possiamo intuire basandoci sul primo gioco. E questa cosa è giusta. E questa cosa è giusta. Perché come noti ci sono varie. Vari vestiti. Tipo completo. Tuta. Eccetera. In vari punti. Si vede che prima qua c'era una. È proprio nel bunker. È super attivo il posto. No ma altrettutto vedi che. C'è. Poi. A parte che sono vicini. Sembra tutta un'unione. Un'unione. Che forma un'intera struttura. Magari in sé sono collegati. Solo che. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. È tutta una roba. Intrecciata. Come adesso abbiamo la kicker. Poi dopo in caso magari andiamo là. E proviamo ad aprirla. Sì 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 sì. Se basta. Quanto sono curioso. Eh sì. Quanto sono curioso. Spero di trovare delle corde. Perché voglio farmi sta cazzo di armatura. Ah capito. Noi andiamo in un bunker segreto. Trama si infittisce. Lui corde. Sperma. Almeno quello. Sperma. Sperma e basta. Oh fra. Tanto c'è proprio l'icona della cosciotta. Il bunker. È gastronomico. Ne. Grazie al cane. Oh c'è il pene. Grazie al cane. Vediamo. 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 Sempre i keddi. Vai scava tu. I keddi sempre ci sono. Vicino ai bimbi. Se si deve scavare. Non lo so. Perché lì so. No no no. C'è un'entrata. Direttamente da qui. Actun. Ah in caverna. Come in caverna. Eh sì. C'è un'entrata per via di caverne. Merda. Merda. Aia. Non mi piace. Mi fa ansia. Le caverne non sono mai sicure in questo modo. Oh merda. Perché gli altri hanno la botola e qua bisogna entrare in caverna. Aspetta aspetta mi metto anche io la torcia. Perché gli altri hanno una botola. L'altro ha una botola e questo si entra in caverna. Non ne ho idea. Guarda come scende. Eh scende un sacco. Dov'è? Pistrelli sempre. Aiuto. Ah ecco ecco ecco. Ma che bella sta entrata. Food and dining. Sì. È una dispensa quindi sarà. È gastronomico. Abbiamo ragione. Eh sì vedi. È una dispensa. Quanta roba c'è? Non lo so. Cos'è? Pezzo di bistecca. Oh no. Guarda quanto cibo. Vino. Come vino. Vino vino. Carne. Non puoi. Pezzi di bistecca. Oh sh. C'è una voce e c'è la keycard da usare. Adesso lo facciamo. Fermo. Sentiamo la voce. Eh no. E c'è. No non si capisce cosa dice. Fermo anche. Sì si sono fermo. Dove l'imendigiorno. Ciao. Vai. Ok aspetta. Prima di andare lì. Do not leave freezer door open. Non lasciare la porta del freezer aperto. Ok. E invece qualcuno qui l'ha lasciato aperto. Hanno fatto una cazzata enorme. Ma perché? Sì. Ma questo. Anche questo non è normale. Perché questo non è più il. Ma poi questo non è ghiaccio. Questa è sempre la roba lì. La saliva. Dei mutanti. Ghiacciata. Perché adesso guarda che è solida. Esatto. Ok vieni vieni. Vediamo se la keycard ce la fa usare. Sì. Oh. Uuuuh. Porca di una trota. Piano. Piantagioni. Piantagioni. Di cosa? Eh. Si vede che coltivavano sottoterra. Ma che cazzo. Bastardi. Che hanno shottati. Beh. Oh. Oh. Cos'è? Cos'è? Balestra. Uuuuh. Bella la balestra. Una trota. Mi piace. Leve il tuo arco. E prendi questa roba. Porca miseria. Adesso parliamo veramente di cose serie qua. Dai dai. Adesso dai. Mix energetico. Nell'inventario. Buono. E dove me l'ha messo? Ah. Ah vabbè ma sì ma perché. Guarda che lo puoi fare anche con le piante giustamente. Che la stessa cosa è una barretta. Dove l'ha messo scusa? E' vicino alle barrette. Ah ok qua. Sangue. 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 Dai vieni. Non mi rassicura sta roba chi. Ma ogni stanza è uguale? Eh. Si vede che c'erano più le parti. Guarda quante fred... Minchia qua gli hanno fatto male. No 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 no. Aspetta che mi equipaggio la balestra. Vabbè. Altre flecce. Ah qui. Prendo le flecce della balestra qua. Tanto la uso. Voglio provarla. La colpaggio anch'io. Fermo fermo fermo. Ok. Non so dove mi ha messo la balestra. E' vicino all'arco. A sinistra. Io non so organizzarmi. Occhio. E qua si va avanti. C'è una porta. Discende. Occhio c'è uno di quei cosi. Aspetta. Vai gancalo. Aiuto la balestra. C'ha l'ascia. C'ho l'ascia. Ucciso con l'ascia. Madonna fortissima. Fortissima l'ascia. Ce l'hai devastato. In due colpi. Morto in due colpi. Faccio bene ad usare st'ascia. Eh beh è un'ascia anche bella seria. Non è che piccolino. Merda c'è l'acqua qui. L'acqua del boom. Dì si è allagato. Ma che cazzo sembra il Titanic. Si è allagato. Si sembra di stare in una nave. Oh no no no. Sempre di più eh. Sempre più. Ma dov'era? Ma che ne so. Quindi è sotto l'oceano? Cioè siamo. No no. Se è così siamo. Può essere che magari hanno avuto una perdita. Vabbè lo sai che ci sono anche i laghi qua attorno. Però vabbè siamo sempre su un'isola. Porca trota. Ma è entrato mezzo mondo di H qua però. Non è che è entrato. Quanto è grosso sto. È gigante. Ma che cazzo è. Là c'è un'altra porta. Andiamo 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 andiamo. Aspetta aspetta. Si va avanti. No che troppa roba. Altre scale. Altre scale. Videocamere. Videocamere. Cosa? Guarda guarda guarda. Ti avvolgi? Gente. Che chiacchiera. Oh. Ma che cazzo. Ah diventa i mutanti così. Quelli lì ciechi. Quindi tutti quelli ciechi che abbiamo ammazzato erano persi. Ma in base a cosa si sono trasformati? Chiave magnetica vi. Virginia. La chiave di Virginia. Vabbè ma ci sta nel senso che ha senso che Virginia. Alla fine era una di loro quindi. Aspetta foglio 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 foglio. Allora. Ecco qui. Important countdown calculation. Yan Yu. Yan Yu. Se non sbaglio è il cinese che all'inizio ci ha fatto svenire. Someone needs to tell Pafton. Qualcuno ha bisogno di parlare con Pafton. Non penso che la calcolazione voglia dire quello che hanno fatto. Non so. Something very bad. Qualcosa di veramente brutto potrebbe accadere. Tutti quanti sull'isola potrebbero essere in pericolo. Non voglio far parte di questo. Dottor Masaki. Oh mio dio. C'era un altro foglio qua eh. Un'altra posizione. Bunker residenziale. Bunker residenziale. Oh oh. Aspetta. Porca. C'è un punto sulla mappa anche. Hank this is where their bots arrived. They have left them abandoned there. Someone needs to clean the... Allora Hank. Qua è dove le barche sono arrivate. Ci hanno lasciato qui e ci hanno abbandonati. Qualcuno ha bisogno di fare qualcosa per questo. Ah sono due punti diversi. Allora due barche le abbiamo già trovate in realtà. Sì mi ricordo. Quindi evidentemente. Ed erano infatti lì. E ci sono anche dall'altro lato evidentemente. Vabbè ma poi lo vediamo. Ok. Ok. Bunker residenziale. Binario per fucile a pompa. Io. Binario per fucile a pompa. Quindi ci sarà un fucile a pompa a una certa. Palese. Ok. Vabbè ma mai lo aspettavo. Ehm. No sto filmato e mi manda in pappa. Te lo giuro. Io c'ho i brividi addosso. Allora chi c'è non. Ma cosa vuol dire? C'ho i brividi addosso. Questi qui parlano. Chiacchierano. E si trasformano. Sono stati indigeni così. Ma per come? Andiamo andiamo nell'altra porta. C'era l'altra porta da vedere. Non so. È tutto un miscuglio. Si collega per carità è giusto. Però non capisco come. Come. Qual è il motivo? Che cosa causano? La barca dal quale loro sono arrivati chi? C'è c'era gente sull'isola. Oddio è il posto del filmato. Occhio che ci sono i tizi. Si si sono io che sto. C'è un filmato Aki. Aki c'è un filmato. Lo stai vedendo anche tu? Si. Chi cazzo sono? Chi è? Ma chi è? E coso? Sono loro. No sono diventati mutanti. No pezzo di merda. No sono loro. Sono diventati mutanti. Pafton è l'altra. Merda. Non lo dobbiamo ammazzare. C'ho poca vita. Muoio. 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 Ma che cazzo. Vieni qua merda. Eh prendo la palestra. Io prendo la pistola mi sa. Io prendo la pistola mi sa. E uno l'ho ammazzato. L'ho preso in testa. Ha morto. Sono morto. Arrivo arrivo vale arrivo. Non è vero. Mi sono noccato. Ce la faccio. What? Ti ho preso in testa? Perché non sei morto? Aiuto sono incassato. Bastardo mi ammazzato la pistola. Sto ricaricando. Porca puttana che forti che sono. Bastardo. Io ci vado pesante adesso. Mi hanno rotto i coglioni. No. Aia. Uno è morto. Quasi tutta l'armatura mi hanno fatto. Io non c'ho più niente di armatura. Ma devono morire. Mori. Aia. Aiuto. Ok. Paptone è morto. Il tizio. Il tizio è morto. Cazzo. Madonna come salta. Usa la pistola. Usa la pistola. No c'è una polessa. Non mi interessa dei colpi. Tanto si devono usare. Mori. Quanta vita. Oddio. Dio santo. Ma veramente? Ma veramente così cattiva? Fermo. I dardi non li prende. Lasciameli a me. Se non devi usare. Cioè perché più che altro li ho usati tutti. Stai tranquillo. Tranquillo. Gli ho usato un po' di colpi di pistola. Giusto? Eh ci sta. Quanti ne ho? Scusa. 31. 31. 9 per fucile e 9 pallettoni. 31 colpi ciò. Eh ma dovevo farlo. Dovevo farlo. Allora. Bastardo. Io non ho capito bene il filmato. C'è arriva questo. Fa la battuta. Ah ah vi trovo bene signori Paptone. E poi boh se ne va così. Che stronzo. Ha mutato questo. No mamma mia. Erano ancora vivi per cui. Vale che cazzo è sta merda. Tutto allungato. Adesso l'ho visto. Tutto allungato. Vabbè questi li abbiamo già visti. Mi stanno causando davvero nausea. Cioè non so scherzo. Sono i twin. Oh. C'è questo qui. Edward Pafton. Stavano accettando. Sì qua. Ah è l'etichetta del posto. Sai che mi sento. Mi fa pena. Madonna che casino. Vieni 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 qua. Un'altra etichetta. Barbara Pafton. Ebbene urbano. Vieni qua. Prendi tutta sta roba. Un attimino Aki. Vedi un po' che cacchio ho eh. E spingiamo tutto. Ma sto filmato? Aspetta. Pase 1. Includere. Au. Aspetta. Voglio spegnere la musica. Dove ne hai trovato? Qua vedi vedi. Guarda qua la tv. Eh la vedo. Bunker Luxury. The Pafton. Non lo vedo io. Bunker Residenz. And where many parties are. Bunker Residential. With more planet and currently under construction. Come fai a leggere? Non lo so io sto vedendo un filmato. Entra nella mia live se vuoi. Così capisci. No lo voglio vedere anch'io il filmato. A glimpse of what? Hollow Springs. Path Corpse. Che è il nome della. Welcome guest to Hollow Springs. Ok. Fase 1 includere l'apertura di un bunker di intrattenimento. Senza induggere. Oh mio Dio. Price list available. Ok. Chiaro. Hanno fatto tutta questa roba. È un posto per andare in vacanza sta roba. Cioè hanno fatto un posto dove andare in vacanza. I residence. Tutto pieno di alloggi. E tutto era questo. Tutta sta roba è in costruzione. E va bene. Ma per tutto sto casino. Sui mutanti. E eccetera. Gli esperimenti. Come cazzo lo ricollego al primo gioco? Non ne ho la minima idea. Il mio cervello sta esplodendo. Cioè io davvero io. Io sceso l'inizio. Altro non so se qui c'è qualcosa. Poi andiamo a guardare. I Pafton sono morti. A parte Virginia che è in giro da qualche parte. Ci sono tantissime cose molto disconnesse però che so che in futuro. Sì piano piano prossimo scopriamo. Fammi bere un po'. Cioè io sono scioccato. Non so che dire. Sono proprio così. Cioè non ho parole. Tutta sta roba è che incontriamo i Pafton che alla fine muoiono. Si trasformano anche loro in mutanti. Sì sono morti. Sono morti perché purtroppo li abbiamo dovuto uccidere ma erano mutanti ormai è un... Che cazzo. Qua sotto? Andiamo. Dove è andato il tizio? No io lo voglio ammazzare quel bastardo. Quello... Lo odio a morte. Che c'ha... Ti ricordo che ha anche lui una pistola per cui... Ma chi cazzo è poi? Chi è? Cosa c'entra in tutto questo lui? Ma noti che nelle note c'è sempre un certo Hank che continua a parlare. Sì. Non è che magari è lui. No lui è Yui qualcosa. Non c'era scritto il nome sul bunker di prima. Non sto minimamente capendo. E abbiamo trovato la posizione per un altro bunker ancora. Tra l'altro. Occhio sta vero. Qua si parla... Morti tutti. Ma che fate? Mi ha noccato. Non ho visto che avevo poca vita. Dai non ti ha animato. Devi vedere che hai poca vita. Sì sì non ci ho fatto caso. Dai curati. A che livello c'è la forza tu? Nove? Otto. Otto a metà. Come mai otto? Non so. Beh non è poco otto. Merda non posso farmi la ruota. Sono quasi a dieci fortunatamente. Oh ho sentito. Hai sentito? Sì sento rumori strani. Non mi piace. I suoni sono. Merda qui non si torna indietro. Eh vabbè. Di nuovo. Come se qualcosa di grosso cammina. Così fa. No io c'ho troppa. Senti senti senti. Cazzo. Bimbo. Non c'è musica. Non c'è niente. Morto miseria. Aia. Due colpi e sei morto. Coglione. Ok. Devi crepare. E si va avanti. Oh. Pazzi. Oddio. Oh merda. Si esce. Si esce. Sempre più strano. Sempre più strano sto gioco. È la trama più assurda che abbia mai visto. Io te lo giuro non sono mai stato così scoinvolto per una cosa del genere. Perché davvero non mi aspettavo. C'è. Questo. Oh. Ah dove cazzo c'è un me. Dov'è il bunker quello che ci ha segnato. Perché. Posso spingerlo. Ma ci aveva dato la posizione di un bunker giusto? Si. Cosa aveva detto? Bunker? È il residenziale. Residenziale. È vero. Eh c'è un tizio vale. Mi sa che è dall'altra parte della mappa eh. Aspetta che c'è sto tizio. Eh si. A sto punto si. Perché se no non ce lo fa vedere in questa zona del GPS. Aia. Forte era. Vai. Andiamo. Oltre la montagna. No no no. Aspetta aspetta. Andiamo un attimo al rifugio. Quello vicino alla spiaggia. Per fortuna siamo qua vicino. E poi. E poi ci riprendiamo. Aia. Ma. Forca pittana. Questo pezzo di merda. Ma perché stanno venendo qui? Ma mi spieghi? Sempre peggio. Ma che c'hanno? Che ne so. Non. Non gli rompiamo neanche le palle. Ma. No. Pensano. Pensano di far qualcosa. Un torto a noi. Guarda. Che pezzo di merda. Si mettono pure. In mezzo alla macchina. Ma che cazzo fai? Ti svegli. Minchia. Vai. Tanto sono tutte persone queste. Da quanto. No. Sono i cechi. Solo i cechi. i pro. Tutti. Tutti. Tutti i cosi. Mutanti. Quelli trasformati. Sono quelli. Prima erano persone. No. Io stavo scambiolto da tutto. Cos'è sta roba? Scusami. Cos'hai trovato? Scienziati morti qui in mezzo. A caso. Ma perché ci sono dei cadavidi così? Sì. Le ammassano. Le hanno ammassato. Boh. Non mi faccio più domande io. Nel. In questa isola. Si stanno. Stanno spawnando. Stanno arrivando cose così. Che non. Tutti invece. Quei mutanti. Quelli più strani. Quelli con 70 braccia. Le dita. Quello. Mi viene in mente. Solo quello che facevano. Col primo gioco. Fermo. Fermo. Lo vedo. Lo vedo il bunker. Lo vedi? Girati. Girati più in là. Dai. Vai indietro. Ho visto una roba gialla. Con una lettera. Hai visto una roba gialla con una lettera? Si. Gira. Tutto a destra. Perché era oltre la montagna. Lo vedevo dalla minimappa. Ce l'ho dezoomatissima. Anch'io. Vai vai. Eccolo. Là. Vicino alla K di Kelvin. Io non vedo. Non lo vedo gialla. Ma no. È il segno del rifugio. È il segno del rifugio. Sono io stronzo. Vai. Andiamo al. Dobbiamo andare oltre la montagna. Minchia. Un pezzo di carne. Un pezzo di carne. Un pezzo di carne. Minchia. Non vedo niente con tutte queste foglie. Minchia. Come stai laggando. Laggo? Minchia vero? Si. Vedevo laggare. Ok si. Mi ha laggato per due secondi. Non è una stazione. Vabbè basta. Ci andiamo. Siamo arrivati. Andiamo in stacca di caverna va. Non la caverna. È il rifugio. È il rifugio. È il rifugio scordi. Si. Sono un pesce. Si. Quindi qui ci sono le barche. Bella zona che abbiamo visto. Ti ricordi? Ci sono le barche. Per cui adesso andiamo a vedere le barche che magari ha spungato qualcosa. Quelle che non avevo ancora visto. Si almeno. Poi abbiamo anche il respiratore per cui. Ah boh abbiamo lasciato. Meno male che ci siamo fatti il rifugio qui. Dormiamo a sto punto si. Vai. Meno male. Meno male. Donne. Eh lo sapevo. Occhio alla gente fuori. Bastardi. Madonna quanti sono. Ma mi parano i colpi. Bravi. Furbi. Intelligenti. Si. Non sono come i mutanti stupidi. Morti. 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 Non c'è più nessuno. C'è un. C'è un falova. Guarda. Arrivano. Arrivano. Ok. Uno l'ho ucciso. Nessun altro. Finito. Scappate. Eccolo. T'ho parato il colpo coglione. E' inutile. Come non fotti. Un altro. Guarda quanti sono. Come un altro ancora. Si. Sono tantissimi. Sono due. Scappate. No. Anche di qua. Anche di qua. No. Ma sono in troppi. Ci stanno circondando. Ci stanno sempre di più circondando. Non va mica bene questa situazione. Perché ci ammazzeranno prima o poi. Ci stonzi. Il giorno è. Il giorno 18. Bisogna un altro. Vieni. Ma vaffanculo. Crepato. Vieni. Vieni qua. Vieni. 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 Via c'è. Dai. Vieni. Dai. Coglione. Basta. Un altro. Finiti. Un altro dai. Stai diventando giorno dai. Oh cazzo. Magari. Vai facciamo sto farola. Ma dovrebbe esserci già. Infatti ci c'è già. Io adesso mi faccio. Ecco. Ci riempiamo la poltrona. La poltrona. La poltrona. La poltrona sì. Qua si può riempire. Col cazzo. No. Dobbiamo andare fino a Milano. È il fiume. È il fiume. Minchia. Devo bere. Minchia raga. No qua. Vicino c'è un laghetto. Vieni. Porto io. Minchia. Devo bere. Galar lo steno. Chi è? Non so. Non so. Sono nato gatto e morirò l'elefante. Ma cosa vuol dire? Che la mia vita è fatta per sicare. Ma perché? Ok. Bella piena di merda. Sì. Per cui adesso si può andare. Ardifon. A cagare. Al rifrugio. Rifrigiramento. Anche. Che. Mi sento più distante. Che. Mi sento solo sulle panche. Ma che vuol dire poi? Mi sento solo sulle panche. Ma non vuol dire niente. C'è. Tutto tu Aki. C'è davvero. Allora fatti un fallo tu. Vai. Sì sì infatti. Facciamo così. Mi faccio un altro. Aspetta. Beh. Sparite il mio fallo. Grande. E questo è il bug più strano. Ninja voglio fare delle panche. Che? Che? Lo sapevo. Lo sapevo. Non le senti. Ecco panchina di legno. Guarda che bella. Lo sa sì. Lo sa sì. Ma posso fare la carne bollita con la carne cruda? Carne bollita. Due pezzi di carne. Sì posso farla. Rame incotto. Vai carne bollita. Oh ragazzi. Il profumino di cazzo sta arrivando. Non mi spacca la carne bollita. Mi devo lavare l'ascia. Aspettiamo che cuoce. Dai. Dio pesci. No. Mi si è seduto al contrario. Come sai che hai detto? No. Ah. Mi sei da lato fosse. Ok è pronto. Bene. Adesso posso fare un'altra roba. Vero. Carne avariata. Vaffanculo. Boh dai. Bevo un po'. Che qui almeno. Faccio. Ho il mio cibetto. E ancora un po' bevo. Tutto bevo. Vaffanculo. E vale qualche rametto. Ovvio. Uniscimi con questa sedia per favore. Grazie. Va. Non devi neanche chiedere. Perché io sono il tuo capo. No. Mi si svento il fuoco. Perché? Ma qua come capisco se la carne croda è cotta cruda. È buio. Lo so col buio. Oh. Accenditi merda. Si brucia. Si leva su tutto il fuoco. Ma sono un pesce. Minchia. Sono un coglione. Ho buttato. C'ho la forza a livello 10. Porca trota. Che bestia. Quante cose c'ho? Allora. Una keycard. C'ho tutte le azioni militari. Il ramen. Si. Lui ce no dai. Quello non mi manca. Sette snack. Snack. 21 roccipine. 9 bastoncini. Capo. Ce n'ho 9. Ok. Ragazzi. Tre pannelli. Quanti colpi di culo? 31 cartucce. Minchia. E' stata. Una giornata straziante. Molto molto. Qui su Sons of the Forest. Oggi abbiamo fatto tantissimo. Ma tanto tanto tanto. Dai io. Siamo da 1 ora e 37 in live. Io staccherei. Ok. Si è un bel punto per staccare. Perché non voglio fare tanto. Si perché è proprio bello staccare in un punto del genere. Esatto. Ok prossimo live. Dai. Andiamo nel cazzo di bunker residenziale. Guardiamo. Cerchiamo di capire dove è. Anche se crediamo che sia dall'altra parte della mappa. Salvo. E niente. Alla prossima. Va bene vai. Alla prossima ragotti. Alla prossima.